Antitrust Channel, ecco Jacopo Berti, responsabile della direzione Industria, Energie e Trasporti di tutela del consumatore dell'antitrust. Che cosa prevede l'articolo 65 del codice del consumo? L'articolo 65 prevede un divieto di pagamenti supplementari senza il consenso del consumatore e quindi sostanzialmente viene a disciplinare una pratica già considerata scorretta precedentemente, cioè di introdurre dei meccanismi di opt out per servizi nuovi e pagamenti accessori e per tutti i pagamenti ulteriori e servizi nuovi richiede un consenso esplicito consapevole del consumatore. Un caso recente di applicazione di questo articolo 65? Sì, lo abbiamo applicato nel caso Telepass, il professionista, l'impresa in questo caso aveva accorpato i servizi premium e il servizio premium extra con il nuovo servizio premium. Sostanzialmente il servizio premium precedente prevedeva il soccorso solo in autostrada e il premium extra anche sulla viabilità ordinaria e col nuovo servizio premium si è previsto al soccorso sia in autostrada che sulla viabilità ordinaria con un meccanismo appunto di comunicazione ai consumatori dell'attivazione del nuovo servizio che avveniva automaticamente. Il nuovo servizio comunque richiedeva un nuovo prezzo che è passato da 0,78 a 1,50 e quindi sostanzialmente incideva sui consumatori in maniera significativa e per questo siamo intervenuti e abbiamo ritenuto che questa modalità di attivazione del nuovo servizio non fosse corretta. E' stata multata a Telepass? Sì, gli abbiamo dato una multa di 200 mila euro, non particolarmente elevata perché abbiamo considerato alcune circostanze particolari, attenuanti, la prima che il servizio il primo anno veniva offerto gratuitamente, la seconda che nel corso del procedimento e prima della scadenza dell'anno ha appunto posto dei comportamenti rimediali e ha chiesto a tutti i consumatori di esprimere il consenso all'attivazione del nuovo servizio e chi non voleva gli rimaneva il vecchio servizio premium con il prezzo precedentemente stabilito.